Seolodato Gesù Cristo In questa ultima lettura dell'Apocalisse noi troviamo un accenno alla descrizione di quello che è la complessa realtà della Gerusalemme celeste, cioè quella che scende dal cielo, dopo che c'è stato il giudizio universale e dunque il male, il maligno e tutti i suoi adoratori e seguaci sono stati rinchiusi definitivamente nello staglio di fuoco. Il giudizio universale per la risurrezione di vita, per la risurrezione di morte, a seconda di chi è stato trovato degno di questo o di quell'altro per le opere compiute sulla Terra. Ora ci troviamo di fronte a una dimensione differente che non è facile da comprendere. Sicuramente, per avere un'idea di questo regno, Ceri Nuovi, Terra Nuova, c'è un dinamismo e una funzione di una parte degli eletti rispetto a delle nazioni. E questa è un po' la cosa più stimolante per comprendere come la storia dell'umanità e della creazione di Dio continui in un processo che noi possiamo semplicemente intravedere. Infatti la città di Dio, la Gerusalemme, che scende dal cielo si contrapone a quella città che finalmente è stata distrutta e sono stati sconfitti coloro che erano gli adoratori del demonio e che avevano voluto seguirlo con il peccato, la corruzione dei popoli. Babilonia la Grande, che in un sol giorno è stata incendiata sulla terra e che rappresentava il governo della terra per mezzo dei grandi mercanti. Questa città sulla terra ha una fine. C'è un tempo di prova ancora che è quello dei mille anni in cui gli uomini vivono senza questa oppressione di dominio del male perché il demonio e coloro che fanno il male sono limitati. Il demonio viene incatenato nell'abisso. Esistono ancora coloro che scegliono il male ma non hanno il potere del governo totale del mondo e delle nazioni. E questo consente a chi vuole di scegliere come vivere cioè come vivere secondo quella che è la volontà di Dio. La città invece celeste, quella che scende dal cielo è il compimento totale di questa redenzione dell'umanità perché è abitata dagli uomini nella risurrezione per l'eternità. Celi nuova e terra nuova dunque sono per noi misteriosi perché si tratta di una dimensione di vita di vita soprannaturale della quale non abbiamo un'idea precisa se non che tutto sarà di Dio e nella luce di Dio. In questa città infatti non vi è un tempio perché Dio è tutto di tutti. Non vi è più tenebra, non vi è più notte perché c'è sempre la luce di Dio che illumina. Interessante è anche l'immagine dei fiumi di un fiume che scorre al centro di acqua pura cristallina con un albero che dà dei frutti insieme ad altre piante da cui procede la vita. È l'albero della vita che abbiamo già trovato nel giardino terrestre con i fiumi che si ripartono e che era un'anticipazione di quello che invece si realizza con la Gerusalemme celeste. Dunque non vi sarà più un tempio c'è una fonte della vita che è un albero e l'albero non è un albero vegetale ma rappresenta la stessa vita sulla terra nella sua eminenza che la vita dell'uomo e l'uomo è tutto quanto unito in un modo mistico unito al suo capo che è Cristo. L'albero della vita è dunque il Cristo che alimenta attraverso una generazione spirituale che passa dunque a quello che è l'essere degli uomini nello svolgersi della creazione. e questi alberi daranno frutto ogni 12 mesi ogni mese per 12 mesi all'anno che vuol dire non ci saranno più delle stagioni ma i frutti di bene e il nutrimento spirituale sarà continuo e le foglie serviranno per guarire. Questi alberi particolari che danno frutto e guariscono sono gli alberi che rappresentano il sacerdote di Cristo ma il sacerdote di Cristo è in questo caso inteso non come sacerdote ministeriale quali sono i sacerdoti su questa terra adesso perché non vi è più tempio nella città di Dio perché Dio è in tutti ma l'intero popolo è diventato sacerdote e non c'è più il grande sacrificio da offrire sull'altare perché questo è stato compiuto con l'offerta della propria vita durante il grande combattimento sulla terra quella che noi abbiamo visto descritto nell'Apocalisse tuttavia questa funzione sacerdotale è proprio quella del nutrimento e della guarigione delle nazioni così è scritto e così dunque lascia intravedere come ci sia un destino degli uomini della terra redenti che abitano in questa città che è tutta spirituale e che alimentano con loro stessa vita che è la vita divina alimentano, nutrono, guariscono altre nazioni quali siano queste altre nazioni a noi non è dato da comprendere ma è dato da comprendere che noi siamo popolo sacerdotale in funzione del bene di altri si aprono prospettive infinite più grandi di noi ma che servono a darci ragione di qual è il nostro destino la nostra funzione la nostra ministerialità come santi popolo santo popolo sacerdotale popolo che è porzione del Signore in mezzo a un mondo che è molto più ampio più complesso e più vasto di quello che noi possiamo immaginare questa è la nostra vocazione essere trovati immacolati al sottospetto per dargli culto e servizio senza timore senza peccato e senza schiavitù nella libertà dei figli di Dio la città santa dunque popolata dai santi di Dio è un tutt'uno con il suo capo che è il Cristo è la città dei sacerdoti per il bene di tante altre nazioni sia lodato Gesù Cristo grazie Fox genabouts grazie genabouts grazie 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 a tutti